che stava cadendo qualcosa dal palazzo che se vi avesse colpito in testa vi avrebbe ucciso e lui rischiando la vita vi ha spinto per allontanarvi, beh, diventerebbe il vostro salvatore, gli dareste riconoscenza vita. Quindi anche qua l'evento è sempre lo stesso, ma cambiando cornice cambia completamente la situazione. Quindi il potere di controllare i frame è fondamentale. Imparate a cambiare la cornice e imparerete a dominare la mente delle persone. In una certa cornice potreste essere giudicata una puttana, in un'altra cornice potreste essere giudicata una donna che invece sa gestire la sua vita e che è passionale. Ma vale un po' per tutto. Ci sono dei frame nascosti, ad esempio, che ne so, il bidello, se si qualifica come un addetto del personale ATA diventa, diciamo, diventa una persona di rispetto. Perché bidello invece viene considerato come magari l'ultima ruota del carro, per dire, no? Quindi conoscere questi meccanismi è molto importante. Quindi quando tu incontri una persona devi imparare a gestire il frame, devi imparare a fare, tra virgolette, a dominare, a controllare il frame, riuscirai a penetrare la sua mente, riuscirai a farlo innamorare, riuscirai a farlo sedurre. Devi creare un frame dove tu rappresenti la donna giusta, quindi devi essere una donna appassionale, devi essere una donna interessante, devi essere una donna di successo, devi essere una donna desiderata da altri uomini. Questa è la cosa fondamentale. Quindi è bene conoscere le tattiche per utilizzare i frame e vincere, tra virgolette, la guerra dei frame per condurre tutte le azioni in modo tale da penetrare la mente di questa persona. Quindi devi mantenere il tuo frame, fare un pre-framing e il reframing e il deframing. Allora, vediamo cosa sono queste tattiche. Mantenere il frame significa mantenere il proprio modo di vedere la realtà e nonostante le obiezioni che possono essere messe al tuo punto di vista. Quindi devi sentirti, percepirti come una freccia scagliata verso il suo bersaglio che vola sulla sua traiettoria. Quindi qualunque tentativo fatto per allontanarti, tu rimani solida e stabile sulla tua strada. Nessuno potrà sconfiggerti. E quindi riuscirai a mantenere la tua individualità, perché questo è fondamentale. rimanere, diciamo, centrata su te stessa è veramente la cosa fondamentale.